ma vedete sembra che non capiate il senso della sala d'attesa il senso della sala d'attesa è attendere altrimenti inizieremo prima e in ultimi dici dino ma inizia prima a sto punto no se no che chi ci sta a fare una sala d'attesa se non per attendere e aspetta allora bestiace bentornati un piacere un onore inizio settimana col botto perché dobbiamo parlare di un sacco di cose un sacco di cose davvero allora oggi non solo c'è il continuo dell'horror night che abbiamo iniziato venerdì su the renovator non so come si chiama con questo gioco fatto sta che interpretiamo i panni di un restauratore d'arte che rimane intrappolato nella sua stessa arte e l'horror inizia ad affiorare piano piano male male duro duro ma dobbiamo anche parlare delle notizie della settimana ci sono notizie veramente interessanti che vanno a interessare il mondo marvel tanto per cambiare porca di quella miseria dato che c'è stato il comic con follie e inganni e poi successivamente ragazzi dopo aver giocato voglio dedicare l'ultima parte della live su una recensione a deadpool e nuolverina mi sono fatto una lista di punti di cui parlare discutere di questo film che secondo me è fondamentale e parlare ovviamente questa lista io non l'ho fatta e vi sto mentendo perciò sarà tutto quanto come al solito alla cazzo di cane cane che tra l'altro mi ha pisciato in casa stranamente non lo fa non lo faceva più ma oggi ha deciso di farlo ma queste sono altre sono altri problemi no io non laggo io non laggo siete voi siete voi bene ora come state tutto bene se bianco natale sì mi sono messo in gingari avete visto che meraviglia mi sono anche tirato un po sulla la treccia e quindi no non mi sono tagliato la barba tranquilli non lo farei mai mi sono solo tagliato su la treccia e quindi sembra più corta ma in realtà adesso la mia la mia treccia arriva fino alle colline colline dino mi spaventi l'internet spero proprio di sì d'altronde l'internet è cattivo ragazzi sappiate che io ho un nuovo hobby perché dal momento in cui in questo periodo mi sento vuoto e non provo molto ho deciso che trattenere l'urina fa parte dell'esperienza di vita provateci provateci ragazzi fa male alle reni però effettivamente ti dà quel brivido che aggiunge qualcosa aggiunge qualcosa che bella testa pelata grazie grazie mille grazie mille mi sento molto anti d'anti mi fa molto piacere niente ragazzi adesso che abbiamo deciso di parlare come al solito della dell'eclissi lunari eccola qui la luna guardate che meraviglia direi di concentrarci però su le notizie di oggi se posso se mi date il permesso io partirei posso ho il permesso partissi ora mi brucia il non ho letto sono lucido perché sto sudando ma sto sudando da cinque mesi tipo vado col tgd no io parto è si posso io potessi ma prego pregammo il nuovo pad della sony dicono sia adorabile ispirato ovviamente ad astrobot e io dico che è una merda fine questa è la realtà dei fatti non si sono per niente impegnati l'unica cosa che forse potrebbe sembrare differente è il fatto dei led applicati sul touch touch pad del del pad della del joy pad della della playstation pad però di certo mi dispiace ma qui non si può non si possono che fare i complimenti alla microsoft che non avrà i giochi non avrà un piano marketing ma perlomeno ipad effettivamente vogliamo comparare l'ultimo dell'xbox l'ultimo di death pool assolutamente no perché il pad col culo della microsoft ha superato ogni nostra sacrosanta aspettativa ora passiamo ad un'altra notizia mentre io statico non mi muovo cercando però di schiacciare il tasto giusto senza guardare la freccia vediamo se ce la faccio ho chiuso int ce l'ho fatta come cazzo fa vabbè voi non lo sapete ma ce l'ho fatta ragazzi wow wow allora fermi altra notizia fondamentale ragazzi si sa bisogna avere un cuore di titanio uno scienziato ce l'ha fatta ha creato un cuore di titanio funzionale in grado di pompare 15 litri di sangue e quello che state guardando non è un archibugio steampunk di qualche cosplayer là fuori che ha deciso di andare in fiera e mostrarsi diciamo a nudo facendo vedere proprio il proprio cuore pulsante ma questo è proprio un cuore ragazzi un cuore tra l'altro dalle dimensioni abbastanza minute perché io mi immagina non lo so sono rimasto ai polmoni d'acciaio io come tecnologia nell'ambito della medicina quindi capsule giganti dove ti chiudono dentro per il resto della tua vita invece adesso eccoci qua con questo meraviglioso cuore che è stato trapiantato indovinate un po' è un cuore ha funzionato funzionato è più carino di quello originale è vero è molto vero sembra sembra il sifone del mio lavandino però devo dire ragazzi che sicuramente ospita molti meno peli ora detto ciò donna bionica tra l'altro non l'ho detto ma c'è scritto quindi adesso ve lo dico devo dirlo mi dispiace per contratto funziona anche per lo sport c'è solitamente i cuori artificiali tra pianti di cuore sono cuori che non è che hanno quella potenza cardiaca classica di un cuore umano no il cuore da porco di maiale non è non capirsi questo invece funziona alla grande questo proprio può funzionare anche se devi sollevare dei pesi se devi correre infatti ci sto pensando che senso ha che senso ha sprecare la propria vita quando puoi ad allenarti quando puoi semplicemente andare lì firmare pagare quei 500 milioni a grammo che costa questo cuore e trapiantartelo ci sta no diventiamo cibernetici o figa mi sono perso il tgd non ho appena iniziato appena iniziato in realtà poi notizia eccezionale veramente grande citazione a benigni non è vero guardatelo guardatelo e giudicate ho sbagliato non era questo aspettate è lui l'hanno scelto vabbè lo sapevate già è inutile non è una notizia così c'è stato il comico ragazzi a un certo punto hanno deciso di far vedere il nuovo doom dei prossimi fantastici quattro dove interpreterà pedro pascal il protagonista infatti non so se credo proprio che non andrò a vederlo però c'è il contraltare ossia robert downy junior roberto down junior roberto da un piccolo ha deciso di presentarsi dicendo eccomi qua stronzi sono sono iron man ma che diventa dottor doom cosa beh sì in questo universo parallelo tutto è un puttanaio ormai abbiamo dato adito alla marvel di fare ciò che vuole col nostro culo e quindi eccoci qua a boccaloni a goderci questo spettacolo d'altronde l'unico modo quanto pare per portare la gente al cinema è tirare fuori Hugh Jackman e robert downy junior ed è assolutamente corretto ed è assolutamente vero vero quindi vedremo adesso cerchiamo un attimo di capire mi sembra però costretto cioè io ho visto le immagini di lui che si mostra in tutta la sua gloria mi sembra l'abbiano costretto cioè sembra che un cecchino stia per sparargli non so per quale motivo non mi sembra molto convinto sicuramente mi sembra molto più ricco però non mi sembra molto convinto ha la faccia da cattivo effettivamente ha la faccia da cattivo poi nuovo trailer se volete vederlo mentre l'ho sputato di hell boy ma sì guardiamocelo guardiamocelo altro cinecomics per chi non avesse mai letto hell boy leggetelo che state aspettando questo forse scusate interrompo perché tanto l'audio non serve un ca questo forse probabilmente prende pari pari al fumetto infatti i personaggi sono praticamente uguali tutti tranne chi tranne hell boy che fa cagare cioè è una cosa orripilante questo hell boy però devo dire che anche la cgi non sembra male sembra malissimo e quindi non vedo perché non andarlo a vedere sembra proprio quel classico hell boy sembra purtroppo che dopo del toro soffra di questa sorta di alone trash che non si riesce a togliere di dosso però questo mi ispira perché segue sembra seguire tutto tutta l'opera di mignola quindi tanto sapete che è il mio fumetto alla quale io sono molto affezionato e quindi voglio proprio vedere c'è anche the crooked man quindi voglio proprio vedere che cazzo ci c'era fuori e questo è ciò che ha da dirci il film sentite incredibile vero incredibile lo so lo so lo so poi ultima notizia fregati vi ho fregati vi ho fregati ah di non sto cenando vergognati sono le 21 e 34 tu non hai alcun diritto di cenare in questo momento è troppo tardi salta il pasto fa anche caldo non si fa non si fa ti stiamo guardando solo tv da 85 pollici devo cambiare anch'io la mia televisione anche perché si stanno rincoglionendo mi hanno mentito compri compri questa televisione è una smart tv non è vero a me sembra abbastanza scema tra l'altro ogni volta non so per quale motivo ma ci mette un'era per andare su amazon prime e farmi vedere la mia serie preferita the boys iscrivetevi ad amazon prime è incredibile ragazzi incredibile ti piace il prosciutto crudo no fa schifo preferisco il prosciutto cotto è migliore sotto tutti i punti di vista se devo mangiare qualcosa di crudo vado con la bresaula anche se non è propriamente cruda ah signori miei ti piace il sapone devo dire che ci sta però solo cotto troppo vero ma io non so ragazzi a volte mi sento di dover dire la verità poi fate quello che volete prosciutto cotto alle erbette non c'è prosciutto crudo che tenga mi dispiace ma no poi c'ha i filacci dentro che schifo cristo che schifo no non mi aggrada sì sì team cotto per tutta la vita ma mi è sempre piaciuto e da quando sono piccolo mi ricordo quando si andava dal salumiere che c'era il salumiere che mi lanciava le fette di prosciutto in faccia adesso fa di moda lanciare le fette di andava di moda su internet lanciare le fette di di merda va bene le fette di merda perché non mi vengono le parole le fette scusate state mangiando perdonatemi le fette di le fette di le fette le fette di sottilette di formaggio bravi le fette di formaggio in faccia ai bambini invece me lanciavano il prosciutto e quindi niente a me la salsiccia di bra bene molto bene ai gatti no nessun gatto chi l'ha visti io non ho mai visto un gatto su internet allora ragazzi io inizierei a salutarvi vi ricordo che dopo la giocata horror ci buttiamo con mi raccomando c'è una votazione cotto crudo votate votate ragazzi io già vedo il 53 per cento che sta votando il crudo a me dispiace dire che non capito un cazzo però io vi rispetto lo stesso vi abbraccio da lontano ma vi abbraccio allora dicevo adesso parto con i saluti e poi successivamente successivamente ci si butta con la recensione su deadpool vorrei fare qualcosa di diverso pensate un po ragazzi vorrei uscire dal seminato entrare a far parte di qualcosa di contenutistico un pochino più ampio quindi ci spostiamo dal gaming dal gaming al gaming tra l'altro grande imperatore al al alla cinofilia vabbè ci siamo capiti ci siamo capiti il cotto fa schifo ma io ragazzi ma voi pensate votando crudo anziché cotto crudo pensate di andarmi contro e di scaturire me una sorta di reazione non è certo per questo il motivo per cui sto balbettando non è mica la rabbia assolutamente non mi può fregar di niente di meno che sto dicendo viva il cotto grazie grazie allora vi saluto intanto è zio casco gerry biscotti cotti vedi ale saturn poi tu voti voti crudo però alla fine dentro dentro non nickname non so che cazzo di nome sia non sono alice buono poi abbiamo lola 42 01 fleming bag il gallo 05 da mattians ornitorinco barbuto 24 42 scusate god non ci proverò neanche più gattoniglia non so se l'ho già detto undertaker 11 11 11 11 matteo cop tv fe 35 49 samu freddo 09 il jack con le e riso venere ciao dino mi sei mancato grazie grazie bestiaccia mauro il comico poi abbiamo steppo steppo nel gordo ok poi abbiamo atreus 97 rica walker è l'ultimo ma non ultimo chi è l'ultimo degli ultimi sono grigio ragazzi per via della luce per favore non iniziamo basta trovare i difetti laddove non ci sono c'è perfezione qua con noi la sera c'è solo perfezione per favore siamo perfetti guardatevi allo specchio e ditevelo sono perfetto sono l'essere perfetto e che cazzo ogni tanto ci sta fermi fermi alexandros bestiaccia un piacere un onore benvenuto alla casa del signore oh eccoci qua oh oh sono l'essere perfetto esatto si si ditelo poi con una risata malvagia nel mentre che decidete di esterminare una popolazione a vostra scelta ovviamente twitch contestualizza si tratta tutto quanto qualora fossimo nel caso in all'interno di un anime o di un manga sia chiaro non non sto dicendo non sto dicendo certamente di sfogare le vostre frustrazioni sul prossimo no assolutamente allora eh il gabibbo il gabibbo è vuoto dentro tu dici ci sarà sicuramente una persona di 120 130 chili che che anima quel pupazzo di 250 250 chili invece no c'è uno scopettone e due pezzi di ferro eh lo so ragazzi mi dispiace mi dispiace il gabibbo è finto tanto quanto è finta l'idea che non esista babbo natale io non so come si possa pensare che non esista babbo natale si sa che d'altronde dietro il muro di ghiaccio al di là dove la terra è piatta lui arriva con il suo squadrone di renne assassine e spara con il suo cannone i tutto ovviamente i regali di punta però con l'angolo sul sul coccige dei bambini quelli buoni a quelli cattivi non vi dico cosa fa perché le leggende narrano cose orribili il gabibbo è giarriscotti è vero anche questo è vero e dentro giarriscotti è vuoto incredibile come ragazzi si arriva sempre alla matrice del problema è allucinante è allucinante scusate ragazzi non volevo alzare la voce ma ci sta è la voce della verità io non mi puoi salutare a rindu 02 ciao ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta allora io direi di posso dovrei andare in bagno ma ormai sti cazzi gioca è estate quindi siete tutti quanti impegnati ad uscire a godervi la vostra vita è ad andare a prendervi il gelato ad andare a che ne so a fare a fare niente fuori in mezzo alla strada sudare e a annoiarvi invece che stare qui tutti insieme vergogna ditelo agli altri ditelo vergogna perché eri fuori l'altra sera io ti stavo aspettando lì in chat dal cop tv e invece il cat mi piace quando mi chiamano cop tv mi fa ridere ha vinto il crudo godo andrea ma me non me ne frega nulla io so di essere nel giusto che succede qui allora fermi mi hanno lanciato un incantesimo confundus va in live ogni tanto lo lancio ai cani confundus non capiscono un cazzo è bellissimo cioè rimangono e fatelo fatelo quando trovate dei cani fatelo allora aspetta non si ci siamo o che al contrario è o eccoci qua eccoci qua come nuova partita no carica giuoco dopo aver aperto una porta puoi semplicemente spingerla con il tuo corpo ma che cazzo vuol dire ma che consiglio è attenzione quando esci di casa allacciati le scarpe ma che consiglio è tanto le porte non portano si sa già eravamo qua da spaventarci eccoci col nostro lumino e quell'incubo là fuori cosa dovevamo fare non vi è un obiettivo nella nostra vita mi muovo seguendo uno schema come potete vedere silenzio allora c'è questo meraviglioso biglietto che ci dice padre del diario di mio padre lo teneva fin dal padre noi lo leggeremo non ci abbiamo voglia l'abbiamo già letto io lo chiuderei anche è continua ho sbagliato tutto ed i chiudi ed i leggi ed i chiudi come faccio a tasto sinistro allora è tasto sinistro per chiudere per l'uomo che non deve chiudere mai non mi ricordo nulla ragazzi potete darmi un capo se lo chiedo io a voi stavolta potete farmi un recappone di quello che è successo adon trovare io nemmeno combinazione combinazione ci serve una combinazione per aprire la porta effettivamente allora col tasto t potevo togliere rimuovere esatto la lanterna col tasto f potevo niente abbiamo una bottiglia che possiamo combinare con delle forbici per creare del cherosene che applicato a delle corrispondenze si ottiene un rilascia cosa devo fare ragazzi stavi esplorando e sei svenuto di no a a non vedo un macca non vedo ora qua dentro troviamo il latte il cartoccio piramidale è illucinante le uova quelle da lanciare i cetriolini e dentro la reparto freezer un ca ma noi non importa non importa nulla foto accanto alla tv grazie 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 allora cerchiamo la tv eccola qui penso che questo sia mio nonno e il mio giovanissimo padre non conosco affatto mio nonno è morto prima che io nonno ok e 1956 20 grammi pesava poco il nonno 1956 veramente si intende la quantità di ceneri ritrovata allora perfetto direi di partire con 1956 non conosco la combinazione come facciamo che schifo l'occo come che schifo il bambino ragazzi per favore fa vedere effettivamente un mostro effettivamente un mostro qui abbiamo poi uno schizzo fermi di quello che sembra un tavolo con dei fiori vedete non so se serva sta roba fatto sta che io sto tavolo non l'ho visto e sti fiori nemmeno dino devi andare a sinistra verso del ma perché leggo i commenti perché allora attenzione altra foto foto del viaggio del nonno in romania mio padre mi ha detto che i nonni non ci stanno in romania come 1957 ma allora continuiamo a trovare questi allora otto ma non capisco non capisco la tua lingua io non capisco la tua lingua allora abbiamo questo simbolo rosso e di là cosa abbiamo invece che magari sono quella soluzione sta in questi simboli il simbolo blu ok bene dobbiamo trovare un posto dove infilare queste date che è stato vi picchio di sbieco e la o ma che suoni sono la mia arma letale svenire allora 1957 simbolo rosso 1956 simbolo blu dove devo metterle ste robe dino la gabbia la gabbia ah sì c'era una gabbia con la chiave è vero aspetta aspetta dove cazzo era era qua gabbia con uno strano meccanismo mi chiedo cosa serva puoi metterci dentro le dita a provare a girarla così che la chiave fuoriesce senza dover risolvere l'enigma ambientale dei templari cristo madonna ogni volta sti cazzo di giochi scusate devi andare alla gabbia che trovi in camera da letto c'è una specie di bilancia poi va in frigorifero prendi il latte e mettilo nella bilancia per aprirla ma mi hai rovinato tutto il gioco allora a parte il fatto che se fosse così io non ci avrei mai pensato quindi per forza dovevi dirmelo effettivamente come prendi il latte e mettilo nella bilancia non posso prenderlo il latte sei un bugiardo ma è un bugiardo nell'armadio del nonno c'è il nonno c'è una divisa delle ss indossate come non loro sono russi chi è di pataiozza qual è la tua strategia nel caso compaia un nudo alto e magro lo ustiono con con questo meraviglioso lumino che ho in mano che tra l'altro ha quella forma goliardica che serva di infilare stiamo perdendo troppo tempo ragazzi per cazzate stiamo perdendo troppo tempo per cazzate allora qua dentro c'è una coperta coperta da una coperta aveva freddo e qui invece troviamo non lo so non so cosa sia quella roba lì sembra un panini di velluto di velluto li mangerei qua vediamo cosa c'è dentro l'armadio nessun nonno ah del ches del cherosene mio a paznatsu e ragazzi qui c'è pure una pinza di una levigatrice no cos'è una levigatrice per quale motivo una levigatrice ma in questi tempi di questi tempi di questi odierni tempi mi sembra strano so per spaccare tutto veramente non lascio nulla della casa del nonno essendo se ama aspetta ho risolto l'enigma giusto ma tu lavavi qua e qua che si lavano i piatti non voglio più vedere non funziona nulla in sta casa non funziona un cazzo il nonno era un nonno acqua tiepida e ho provato ragazzi ma avete mai pronto a bere l'acqua calda d'estate se lo fate addio ah lì mi faccio la doccia quando esce il prossimo episodio di l'ultimo preso da dietro e ogni sabato ragazzi alle 21 e 30 mi raccomando solo su digitale terrestre aspetta c'è un'altra roba da prendere ma è sempre il latte ma il latte cosa cazzo mi serve scusatemi cioè perché posso tocchicciare il latte aspetta qua c'è questa scatola a mio padre è sempre piaciuto conservare le cose in piccoli contenitori a quanto pare a quanto padre gli è stato tramandato da suo nonno poi faccio apri e non apri madonna santa perché vaporizza su canale 5 che schifo il nonno schizzato basta ci sono altre foto serve una bilancia della gabbia e allora effettivamente sulla gabbia notiamo che c'è un simbolo della bilancia intanto proviamo a vedere se posso accendere una luce perché non si vede un ca tipo sta roba qua non è la luce no vabbè c'è effettivamente il simbolo di una bilancia non so se lo vedete però questa bilancia come devo cioè basterebbe metterci il dito ma sono stronzo dove la trovo sta bilancia ragazzi arriviamo a una soluzione per favore vi dirò è lunedì e già non ho voglia quindi per favore datemi una mano tanto salviamo la partita così che se fate se facciamo qualche stronzata è colpa vostra sono nipote di jenny jenny no come no il quadro a destra del letto il quadro a destra del letto perché a destra del letto e mo che si devo fare io col quadro a destra del letto aspetta però magari uno di questi quadri c'è quel famoso schizzo c'è nel senso quello che abbiamo visto lì magari la soluzione nel quadro d'altronde un gioco sull'arte porca puttana questo nonno non lo so vidilanio zi che succede del paranormale ma magari c'è solo da cambiare la lampadina spegniamo tutto dai stiamo al buio la nonna vediamo un po foto di nonna 1953 200 grammi ancora mia nonna e lidia ivana novone di lei ho solo caldi ricordi che schifo allora quindi ci vuole un qualcosa di piccolo due disegni rossi uno blu e lo so e quindi e ragazzi ma sinceramente ma voi state capendo non dite quello che vedete ci arrivo anch'io a dire ci sono due disegni rossi uno blu ci sono delle foto come ti devo dire no dai il latte dino basta sto cazzo di latte cerca la coppa del nonno incredibile ce l'avranno in russia va in ordine con le date il quadro di fronte al ritratto non ho letto non ho letto hai una candela in mano adesso non più a gira acqua calda due volte una fredda allora potrebbe essere una stronzata come no allora acqua calda due volte è una fredda mi hai fatto perdere del tempo utile Dino trova qualcosa ragazzi la casa è finita c'è sinceramente sta porta non porta è da iozza la luce s'accede si spegne i quadri li abbiamo letti non c'è un cazzo da fare c'è solo sta roba qui ma perché ma perché i giochi stanno diventando sempre più difficili allora o sono io che non mi applico più come un tempo o effettivamente questi vogliono da me qualcosa che non che io non ho perché non io non mi spiego non mi spiego fermi fermi scrivete in 1203 io non riesco a leggere sto cercando di darti la soluzione mi dice your message wasn't posted ma perché me lo scrivi perché non mi interessa dammi la soluzione acqua calda acqua fredda acqua fredda acqua calda l'ordine va in base alle date delle foto ma siamo sicuri che serva quella roba dell'acqua dove c'era la foto della nonna a fianco c'era un codice ma non è vero non è vero aspetta che controllo dove c'era la nonna a fianco c'era un codice dove l'anno non era qua la nonna la nonna non vi era dove cazzo era la nonna di qua ma che ansia dove 1 90172 è un numero di telefono ragazzi non non dino quanto sei alto 3 spacca la matrioska devi usare il contenitore che hai nell'inventario una vecchia scatola di fiammiferi un po' umida la descrizione la bottiglia aspetta è vero cazzo è vero chi cazzo se lo ricordava no no che fai usa nessuno posto dove applicarsi ma te la applico io la bottiglia ma cosa cazzo ci vuoi fare con una bottiglia vuota è una bottiglia vuota combina con che cosa con l'acqua col cherosene rilascia cosa cazzo non posso usarla esamina non c'è fermi intanto tu chiuditi che qua combina usa rilas che descrizione la bottiglia a giudicare dall'etichetta dell'odore è un solvente a no ok allora è un solvente quindi ci devo sciogliere qualcosa questa cosa qui che è sto suono il frigo fa uno strano rumore non buono lo lascio aperto allora aspetta qua c'è il mazzo di carte no allora proviamo a sciogliere qualcosa cosa sciogli il nonno diluisci la con la vernice apri una volta acqua fredda due volte acqua calda ma perché apri una volta acqua fredda due volte acqua calda uso il solvente sulla gabbia alla faccia del solvente ti prego fa che qualcosa dovrà non va non c'è nessun posto dove applicarsi se non si applica calda fredda calda ancora ma ragazzi ma ragazzi allora sta roba dell'acqua è stata una bella idea inizialmente ma non ha food calda fredda calda ecco non funziona non cambia nulla è acqua è un depistaggio del governo vi fossilizzate su delle cagate devastanti la forbice non so a cosa serve ragazzi effettivamente abbiamo una forbice ma non so sto sudando sto faticando mi serve una mano Dino torna nella stanza e gira il quadro due volte quale stanza delle sette quale stanza ma poi quale quadro posso girare che ma io sento dei suoni sento adesso prendo veramente quella candela che c'è lì in salotto che io continuo a accendere che poi si spegne e vi giuro che con la cera calda mi faccio un calco della cornea dell'occhio prova a vedere se il secchio di fianco al rubinetto si può prendere assolutamente vediamo no mi dispiace Dino dietro ad alcune foto ci sono degli ingredienti e i grammi allora dietro ad alcune foto ci sono gli ingredienti allora prendiamo la foto della nonna eh ma non si capisce cioè c'è scritto a noc carit malit e poi è scritto 1953 20 20 g va bene quindi nel nel 1953 la terra aveva 20 g di gravità pesantissima devi fare qualcosa nel frigo proviamo a fare qualcosa nel frigo allora dov'è il frigo? di qua ho sbagliato stanza casa di merda un incubo a sto posto non ci voglio tornare mai più se accendiamo una luce oh a me la luce anche in cucina ah devo cambiare la lampadina e non troverò nulla nel buio devo cambiare la lampadina mo mi servo una lampadina ma scusa eh ma non me lo potevi dire prima? sono entrato 16 volte in sta cazzo di stanza scala? ricordo la nonna che pesava un sacco di patate con una mano e scriveva qualcosa su un quaderno con l'altra è deviata la nonna ma a me? ma a me che torna di questa bellissima storia a me cosa torna? cosa mi lasci? cosa? apri scatole ecco la bilancia beh non la posso portare con me ragazzi Dino guarda le finestre che c'è qualcuno e ricontrolla la porta non c'è nessuno ehla? ehla? i giochi brutti scherzi? eh? oh oh ehi 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 allora qui c'è il simbolo di una mano gialla va bene va bene ma c'era sta roba prima? ti aiuterò figlio trova l'anello l'anello di famiglia sì sta roba l'avevamo già letta mi sta venendo ho i brividi lungo la schiena schiena molto corta diciamo che io sono tutto culo cioè nel senso attenzione non mi non mi fraintendete devi trovare l'anello e ragazzi eh il prosciutto cotto è molto buono non c'entra nulla sei rimasto a 39 minuti e 50 39 minuti e 59 secondi fa sei rimasto a 39 minuti e 59 secondi fa sei rimasto sei rimasto sì perché adesso bisogna cambiare i termini prima si diceva demente adesso è offensivo o o vabbè sto zitto sto zitto l'anello è nella casa devi trovare il cotto la radio di un solvente sulla foto che spavento il cane si muove il cane deve stare fermo però sono tranquillo cane sono tranquillo cane cane tutto che cazzo succede ma perché adesso il gioco si sta attivando nuova nota qual è dov'è col tasto G ah sì trova l'anello di trova il modo di aprire la gabbia degli uccelli sostituisci la lampadina in cucina scopri cosa si nasconde nell'armadio nipatagiozza 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 ragazzi cosa non devo trovare un modo per cambiare la lampadina in cucina cos'è questo c'era questo c'è un barattolo per terra c'è del sangue sto sudando ho la sindrome dell'intestino debole ma questi sono dettagli privati che forse non dovrei condividere aela scusate ragazzi smettila di fare rumore io evo vnuc completamente fuori di testa ti avevo avvertito che vicini di merda che lingua musicale è vero è vero è scriptato non si muoverà allora vi smerdo eh vi sputtano in live eh beh beh certo ma mi dicono che serve molto l'illuminazione in sti cazzo di giochi rasoio no scusa ma che è sta roba ah perché tutto cavi girava figo figo rasoio meccanico a carica solo radersi con un'asce più brutale ecco quello che penso io qui c'è scritto sapone in una certa lingua del cherosene in bagno classico questo cosa questo è il water no non ci posso credere allora questo è il water c'è dell'acqua calmi buoni jumpscare madonna mia ma è acqua o latte e dietro di noi ma allora tutto ciò che ho nell'inventario a che cazzo è servito io ho perso un'ora e mezza di live la scorsa sera per prendere ste robe e a che cazzo servono scusatemi short è un tosa è un tosa erba angolo dell'invincibilità angolo dell'invincibilità no 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 hello basta eh basta ho vinto dov'è andata la bambolina bambolina questo pane è stantio è lì da da mesi da anni potrei usarlo come arma non temo nulla più o meno salviamo che abbiamo fatto dei progressi c'è in realtà ha fatto tutto il gioco io sono qua che è vittima degli eventi ma è questo posto puzza ho lasciato indietro il braccio con la luce dino hanno regalato un abbonamento ah grazie mille non ho visto grazie bestiace per tutto cerca il ritratto di un canarino potrebbe esserci la chiave della gabbia ma che malattia non conosco la combinazione allora ci serve una lampadina ma in bagno cosa c'è perché scusatemi io adesso ho tolto l'acqua dal bagno non ho controllato effettivamente chiave vecchia chiave porta o scato ah per la scatolina perfetto nella scatolina piano 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 troveremo sicuramente la ci sta per venire un infarto troveremo sicuramente la risposta alle nostre domande e invece open it e non mi giro allora a mio padre è sempre piaciuto porca te lo dico io cosa è piaciuto a tuo padre allora qui c'è la fotografia di un libro e la fotografia di un quadro con una barca quindi libro verde e quadro con una barca e un braccialetto di pessima qualità in legno masticato allora fotografia di un libro e quadro con una barca fotografia di un libro verde e quadro che cazzo sparniosca ehi la è piccolo timi ragazzi sempre stato timido tranne che con me sto stronzo non 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 temo un bambino adesso se mi salta addosso al contrario nudo è la fine non solo mi spavento ma mi becco anche una denuncia eric si si io accendi le luci e le candele no no mi piace il buio a me piace il buio allora libro verde libro verde dovrebbe essere qua dentro oceano no in russo si dice ocean oceano ferro da stiro alla nonna piaceva molto descrizione incredibile dell'oggetto poi in alto ma ragazzi c'è quello libro verde lì ma non posso farci nulla qua c'è il nostro caro amato leader non posso uscire allora cerchiamo il libro con la barca eccolo no no è questa sembra però no forse devo usare il solvente sul aspetta forse devo usare non riesco a camminare proviamo ad usare il solvente sul libro scusa nessun posto dove applicarsi è esattamente quello che mi dicevano i miei insegnanti la mia maestra i miei professori sotto il letto sotto il letto uso il solvente 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 premi R per tirare fuori l'anello ah è vero abbiamo un anello aspetta hai ragione cazzo no no dobbiamo trovarlo l'anello l'obiettivo è trovarlo l'anello col tasto G infatti mi dice trova l'anello di famiglia questo gioco è un gioco comunque prosciutto cotto è buono ok uso il solvente per ubriacarti attenzione Dino prova a riprendere il latte triangolo e mettilo nella gabbia ma porca puttana ma siete fissati non posso prenderlo sto cazzo di latte ma perché devo prendere il latte e metterlo nella gabbia ma pensate a quello che state dicendo per favore uscirebbe dai fori sotto la tv prova il solvente sul lucchetto chi è? prova il solvente sul lucchetto bussano la porta ma scusami ma perché nella ma chi è quella roba alta e magra lì in fondo era un lampione era un lampione calmi calmi non mi posso specchiare non ho una fascia d'altronde wow spavento illogico ok e ragazzi proviamo ad usare il solvente sulla chiave ma a me sembra cagata sinceramente visto non c'è alcun posto dove applicare dino il quadro elettrico ma dov'è il quadro elettrico adesso mi devo pure inventare cose che nel gioco non ci sono cactus c'è un cactus aspetta c'è un ma questo non l'ho letto cos'è sta roba una nota evviva i miei genitori sono tornati dalla Romani non mi interessa ragazzi non ho intenzione di perdere il mio tempo vediamo se nella scacchiera trovo qualcosa no allora ma la bambolina era qua quindi la risposta è in cucina dove cazzo trovo sta dannata lampadina dove la trovo dove potrebbero i nonni dove potrebbero tenere la lampadina in camera da letto uso assolvente sul mostro incredibile la tv proviamo a vedere la lampadina si potrebbe stare effettivamente qua nella zona diciamo salotto andiamo qua e ripeto c'è un silenziatore per armi per AK47 ago e filo eh la lampadina la lampadina la lampadina la lampadina incandescenza chiamata anche lampadina lì sembra nuova mia piano eh adesso ho triggerato l'evento immagino che succederà qualcosa di scoinvolgente vero ho vinto quindi adesso la porta la luce ah no vabbè controllare il quadro porca miseria controllare il quadro elettrico all'ingresso avete ragione c'era il quadro elettrico all'ingresso che cazzo lo sapeva beh perché non c'è il quadro elettrico all'ingresso wow che sono sti suoni qua scusate un attimo ragazzi allora controllare il quadro elettrico dove cazzo dov'è il quadro elettrico ragazzi questo è un quadro però non è elettrico la libreria a sinistra delle concentriamoci sul quadro elettrico per favore quadro elettrico dovrebbe farti aprire la porta eh eh allora questo qua è l'ingresso no l'ingresso l'ingresso è qui allora forse c'è un errore di traduzione ma questo è l'ingresso e io non vedo alcun quadro elettrico sto svalvolando ragazzi che spavento pensavo ci fosse qualcuno sotto al tavolo all'ingresso verso il salotto c'è un interruttore all'ingresso verso il salotto c'è ah questo no all'ingresso verso il salotto c'è un interruttore oh oh un treno di legno sulla tua sinistra Dino ma dove cazzo è ragazzi io non vedo nessun quadro elettrico magari se trovi un quadro con Edison allora a quel punto si può definire elettrico ma ragazzi ma sono ubriaco non so che cazzo dire in cucina ma come in cucina andiamo in cucina effettivamente a sto punto quadro elettrico ma come per i russi come è fatto un quadro elettrico c'è qualcosa nel balcone ma non c'è non c'è neanche il balcone è questo un quadro elettrico? a me sembra una radio segui i cavi sopradino sopradin guarda cosa mi state facendo fare un cretino ah quadro elettrico e come cazzo ci arrivo? e quello è il quadro elettrico? no quello è il contatore sì ma ragazzi però ragazzi c'è ma sembra il tecnico della fibra c'è non posso stare qua a perdere con lumino nel semi interrato ah Dino il tavolo del salotto? eh che c'ha il tavolo del salotto? ma perché scrivete cose Dino il pavimento Dino metti il latte sopra la candela in cucina per annaffiare le fragole è meglio l'impianto a goccia? io voglio mordermi la lingua e strozzarmici devi controllare meglio l'ingresso io adesso me lo apro ad ariete con la testa veramente l'ingresso non non sembra portare però di nuovo collate sulla gabbia siete siete meravigliosi attenzione però qua ci sono mutande e calzini il nonno era molto piccolo come potete vedere gli piaceva indossare taglie molto più piccole è questo il contatore? no allora facciamo così non concentriamoci sul contatore la lampadina scopri cosa si nasconde nell'armadio mi serve un codice trovo modo per aprire la gabbia degli uccelli e trovo l'anello di famiglia che sicuramente è l'ultima roba che troveremo io ho trovato all'interno della scatolina del padre questi cazzo di indizi che non hanno senso logico libro verde e quadro della barca in camera da letto il quadro della barca in camera da letto come potete vedere è questo qua che cazzo ci devo fare? non va ah forse devo aspetta è vero che mi diceva che devo guardare le robe per due secondi no non sta andando ragazzi provo ad usare la forbice sul quadro? no il solvente sul quadro? capisco proviamo a cercare prima quel libro cerchiamo il libro verde è qua il libro verde? no che poi è verde non so neanche se sia verde qua dei libri ce ne sono molti ma non è ma nessuno nessuno è come il mio forse è questo? che c'è scritto? no 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 leggo che c'è scritto? eia perfetto i sardi sono stati anche qua dino devi spostare il libro verde il solvente sulla è stato cancellato il messaggio che ci avrebbe dato la risposta il quadro si sposta ci sono i segni ragazzi ho capito ma voi dovete capire una roba non c'è interazione in alcuno cioè io mi avvicino a un oggetto non posso toccarlo è come se in questo vuol dire che mi serve un oggetto per interagire e che non posso interagire direttamente col quadro anch'io sto notando che ci sono dei marchi che questo quadro si sposta si gira dietro ci sarà qualcosa io ho quadro sul letto io provo a ricontrollare il quadro ma mi sento solo un idiota ragazzi mi sento solo un idiota prima la corrente se no non ti fa interagire con le cose probabilmente e ok allora cerchiamo prima il quadro elettrico a trovare sto cazzo di quadro elettrico sto per tirare un pugno allo sviluppatore con amore dall'Italia alla sinistra del quadro amen cosa vediamo magari il quadro elettrico è qua dentro queste sono le urne di nonna c'è la cinghia del nonno ma non fermi fermi adesso basta dino l'elettricità sul quadro per fare il quadro elettrico il solvente prova ad usarlo sull'impronta sotto il tasto per le luci ok ci può stare questa una volta fatto ciò vai una volta fatto ciò non so neanche mi piacciono le vecchie una volta fatto ciò cosa vai in frigo e ti farà prendere quel triangolo russo dopodiché vai sulla gabbia e posiziona il triangolo su di essa una volta persa io ho un problema allora solvente sull'impronta potrebbe essere un'idea effettivamente proviamo a vedere scopriamolo insieme nessun luogo dove applicarsi usa latte sulla gabbia adesso lo bevo e essendo io intollerante al lattosio lo cago e non c'è più il latte va bene vino il cacciavite usa direttamente google le foto servono per dirti le stanze in cui trovare gli oggetti il libro era per la lampadina ma questa è la teoria più idiota con tutta offesa cioè con tutta offesa proprio ma è la teoria più idiota senza senso cioè mi fai vedere un libro per farmi trovare una lampadina ma la lampadina ma non ha senso cioè se è così è stupidissimo potevi interagire con qualcosa nella libreria in camera da letto camera da letto libreria raccogli le fragole mature con le forbici il contatore è messo dietro la porta della cucina davvero e io ti ho creduto perché mi fate questo perché mi fate questo nel contatore c'è scritto che era in ingresso che è stato io sento robe che si aprono ma si stanno aprendo le porte da sole o sbaglio perché magari è uno di quei giochi dove devi aspettare che succeda qualcosa per 40 minuti e lo sviluppatore ha pensato che possa essere divertente in qualche modo ehm no fermi scusa queste sono nuove o no le impronte di sangue sono nuove non c'erano prima il solvente di prima ma che cazzo sta succedendo forse qua nel catino posso mettere il solvente vediamo posso combinare il solvente con il solvente non posso combinare nulla ragazzi vedete combina con questo combina con questo non posso fare nulla mia madre lo diceva sempre non combinerai mai nulla anche a me stai nervosendo Andrea porco due c'è dio bono ma mi sento scemo io che non sto capendo che cazzo devo fare ma è mezz'ora che stiamo girando come degli idioti poi la soluzione è una puttanata perché è sempre così però non si capisce cioè non si capisce cosa cazzo devi fare a fianco allo sgabello c'è il bicarbonato come al fianco dove cazzo è lo sgabello eh ma non lo posso prendere ragazzi per digerire devi mettere il triangolo in frigo sulla gabbia io non ce la faccio più io non ce la faccio veramente più non posso prendere sto maledetto triangolo io credo che dobbiamo prima accendere la luce che poi non ne sarebbe neanche un triangolo ma vabbè prova a usare il solvente nella scatola con le foto ma io mi ci faccio i gargarismi col solvente allora la scatola con le foto potrebbe essere un'idea se trovassi la scatola ok di qua allora aspetta eh non credo eh però non va non va ehi fermi ci 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 sono diventato un rapper ci 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 balbuziente c'è un codice 1 2 11 2 4 1 no non è un codice però proviamo non va cos'è la scatola sul muro a destra appena entri in cucina questa è un è un è la soluzione eh ma io non ce la faccio però gioco ma no sembra che oggi sia il 12 marzo 1957 bene ah ah c'è di staccato niente pacece niente pacece lo dico io quando lo dico io dove lo dico io cos'è scatola che contiene solo l'etichetta questo disegno carboncino a quel tempo non c'erano pennarelli non c'è una cornetta di nichelite che posso tirarmi in testa che pesa 14 chili così veramente lascio sto cazzo di mondo eh ragazzi la sua memoria sta casa di merda la sua memoria il quadro elettrico di solito è dietro le porte eh ma ragazzi ma le porte io le ho mosse tutte le porte zona sul contattore zoom sul contattore ok quanto sto 10 minuti 15 c'è l'asse da stiro guarda bene la finestra in salotto ci dovrebbe essere il vicino già visto Dino la mensola all'ingresso la mensola all'ingresso cosa ma voi mi depistate Dino quella porta la devi aprire dopo aver acceso le luci e infatti immaginavo anch'io quindi la lasciamo lì Dino hai provato ad usare il solvente sulla foto e allora proviamo ad usare allora ragazzi il solvente io l'ho provato ad usare sul quadro che si vede qua quel quadro cerchiato però prima dice che c'è sto libro verde io sto libro verde non lo trovo ragazzi cioè non so dove cazzo cercare le robe non c'è sto gioco sto gioco non ha soluzione perché continuiamo a giocarlo che minchia è successo su tiktok allucinante allucinante Dino non è l'ingresso quello ma è l'atrio Dino il libro verde nella credenza in salotto mensola centrale allora credenza in salotto mensola centrale ma vaffanculo ma non è verde è blu è blu è blu è verde acqua ma porca puttana ragazzi vabbè adesso che l'ho tirato che è successo? cosa è successo? cosa ho fatto? le porte si è mosso qualcosa? allora il primo è il quadro allora aspetta il libro è la ventina ora è il quadro ah il quadro forse adesso si è mosso il quadro si si sta succedendo qualcosa oh grazie al cielo oh grazie al cielo istruzioni per la gabbia e per uccelli principio di funzionamento qualsiasi carico del peso di 500 grammi deve essere posto sulla bilancia vicino alla porta della gabbia il peso deve rimanere nella bilancia fino alla completa apertura del meccanismo adesso serve il latte ce l'abbiamo fatta ragazzi che spavento che spavento no 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 non mi fermerà più nessuno ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta vaffanculo vaffanculo guardate come i pezzi di puzzle si incastrano l'un l'altro finalmente finalmente spingi 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 usa le ste manine è fatta è fatta è fatta è fatta ahhh non ha senso non ha il benché minimo senso chiave forse la chiave della porta d'ingresso ora dietro di noi vi è lui mi sento dei passi qualcosa mi sta seguendo ooo allora adesso possiamo andare a a a sto cazzo di quadrante elettrico vediamo è questo è il città bisogna rinunciare il giudizio ma non si 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 identico al vecchio condominio dove abitavo quando ero piccolo uguale uguale con tanto di luce rossa piede di porco e stracce di sangue allora ci servirà quel piede di porco sta zitto ho capito un attimo vado prima di sopra ragazzi tanto non abbiamo nulla da perdere no molto bene quello cos'è una mela masticata ma è è il condominio di rec è te lo dico io te lo dico porca di quella ma perché hanno un ingresso che ho fatto no che poi vicini di casa vaso di porcellana ogni nonna che rispetti dovrebbe avere una collezione di porcellane nel sangue che c'è sotto non lo valutiamo corrispondenza perfetto c'è un tubo allora il vaso quale utilizzo ha lo posso rompere combina no lo posso combinare il solvente con no posso non si può perfetto perfetto andiamo al piano di sopra acerini sta andando tutto ma viene del gioco ma lo sentite anche voi il cane o sono pazzo io rompi il vaso come lo rompo il vaso una bottiglia qui così wow nipatagliozza nipatagliozza 90 sai che il nicolai sergueyevich è un operaio e la luce e la luce nel loro appartamento non si spegne nemmeno di notte così loro per risparmiare elettricità hanno modificato qualcosa nel quadro elettrico e le loro bollette sono diminuite ma questa è mafia naturalmente sono stati denunciati e il centralino è stato bloccato bene che paghino come tutti gli altri credo che abbiano fatto la cosa giusta inoltre sapete quando vabbè ovviamente ragazzi considerando il loro storico nicolai sergueyevich probabilmente avrà origini napoletane che paghino come gli altri però inoltre sapete quando ci daranno l'acqua calda no sono stufo di lavarmi con pentole e padelle ma senza acqua o si lava con una pento come funziona butta per terra il vaso dici che lo posso rompere così semplicemente così rilascia ah questa cosa non la sapevo vecchio anello oh oh ragazzi abbiamo trovato il vecchio anello ma perché il vecchio anello era qua dentro quanti cazzo i piani a sto posto che ho fatto come devo scappare ahhh caro idiota ok 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 no 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 fermo fermo ahhh uuuu ma che è e cosa cazzo cosa avrei dovuto fare scusa prova a scendere direttamente ma come tu dove sarei dovuto andare ma chi era voi era il nonno voi siete deficiente tutto a posto vibra ma io non sto calcolando più cioè celebramente non funziona ormai ragazzi io ve lo dico questa cos'è come funziona in Russia come cazzo è la roba ma che problemi avete ok 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 allora piedi di porco mio questo ci può servire valvola my father va bene va bene grandi citazioni a grandi streamer americani oh madonna mia adesso mi ho lottato sulla schiena veramente educazione siberiana faccio la croce cristiana con tutti i miei parenti russi e poi mi patraiozza sopra allora questo è il nostro ma che cazzo fai no spi va bene questo è il nostro contatore allora usa come non puoi usare il piede di porco lascia letteralmente per questo per delinquere cazzo fallo fallo no cioè cos'è abbiamo le le remure adesso a fare del male perché sai com'è abbiamo rubato col contatore fino ad oggi la nostra famiglia a quanto pare sono degli accattoni qui abbiamo il simbolino blu che io non mi ricordo non posso ricordarmi ste cagate che le forbici le forbici per rompere un lucchetto sai che ti dico hai ragione da quando c'è da quando c'è sta porta blu ma posso aprire le porte con no volevo scassinare ci ho provato mia ok salvato qua niente via performante ragazzi performante eh ma adesso ci sarà il momento in cui partirà il jumpscare no come devo fare col mostro il candelabro prova ad usare il solvente ancora allora ragazzi io ho tre solventi comunque non vedo ok quindi se e ne adeggiarsi e ma nipatrziorska esci esci dalla porta dalla finestra la porta aspetti corri oddio oddio corri chiudi ho vinto buono è fatta ragazzi ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ok ok con calma ora possiamo provare anche ad utilizzare l'anello come avete suggerito in chat perché io vi leggo io vi ascolto l'anello non lo posso più estrarre col tasto r di anello non succede nulla ma abbiamo qua questo simbolo blu quindi effettivamente qualcosa sta accadendo ah la taglia a catena ma è ovvio con la taglia a catena dovremmo poter effettivamente ah questo è il contatore dovremmo poter accedere al nostro contatore ora il mostro se n'è andato vero? questo è un campanello? non lo so rompi il vaso per prendere l'anello ah già anche è vero perché giustamente mi ha avete ragione avete ragione avete ragione olè giustamente adesso vediamo un po' deficiente che va in giro con l'anello in mano non vedo nulla ragazzi non vedo nulla ragazzi non vedo nulla ma è più buio di prima o sbaglio? quello non era un tuono è dio che è inciampato questo è un tuono vediamo se l'anello funziona non mi sembra non mi sembra che si illumini perché un anello si dovrebbe illuminare? beh perché ci droghiamo questo mi sembra ovvio bello l'uomo nero che ti ha rubato prima eccoci qua allora che abbiamo trovato se non sbaglio c'era il contatore dobbiamo a suo punto dobbiamo cercare di evidentemente attivare voi vi ricordate i simboli? ve li ricorda come ho esaurito il cherosene? non ho più la luce no ma ragazzi non si può ve li ricordate? si o no? sis sin i fusibili no 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 per favore due rossi e uno blu allora questo qua è il blu ottimo suono non sono per niente angosciato non abbiamo più cherosene io che cazzo ne sapevo che sarebbe finito allora usa sto affare ah perfetto non vedo non c'è la luce non vedo compito completato che ho fatto? scopri cosa si nasconde nell'armadio questo gioco è inutile tutto ciò che abbiamo visto nel condominio non serve a un cazzo allora adesso con estrema cao ok la luce funziona quindi direi di darci dentro oh che infarto che infarto che mi è venuto scendiamo tutto niente più segreti ma che bello to to allora con calma ragazzi non vedo un cazzo non vedo a posto la lampadina non l'avevo mica cambiata scusa beh non va spavento telefono di merda scusate metti il solvente nella lampada ancora non conosco non conosco non conosco la combinazione ma io non avrei mica questo la serratura è troppo grande non riesco a morderla ragazzi io non so che cosa dirvi non so che cosa dirvi e si che sono sempre sempre valutati come un popolo scaltro un popolo capace un popolo che sopravvive invece non mi pare proprio ma la parola bathroom in italiano è vi eh dino prova a fare un usa ah beh è vero l'anello vediamo un po' se l'anello ci dice qualcosa intanto che cazzo è successo che cosa è successo ma mi è venuto un attacco di tallonite che è successo mi è scoppiato un piede è del tutto normale spero di poter tornare all'appartamento attraverso il cavalletto che dire ragazzi che cazzo non è questo sembra un enorme pozzanghera di inchiostro allora è tutto molto bello se non fosse che mi sta venendo un mal di testa disumano benissimo da dove viene la musica di grazia? è italiano poi o sbaglio? è una donna che si lamenta è talmente bianco tutto attorno a noi che il foglio bianco sembra scuro cioè incredibile l'aprile 1957 mi svegliai di notte per un rumore in cucina era mio padre stava disegnando con una matita su un foglio di carta nel buio più assoluto sì ma stava anche urlando perché altrimenti non ti puoi svegliare perché uno disegna solo la luce di una candela illuminava i suoi occhi vuoti appena si accorse di me mi mandò a letto mi picchiò con la cinghia e la mattina avevo paura di chiedergli dell'incidente ma quale incidente? comunque ha fatto bene te lo dico è giusto è giusto cos'è sta roba? straccio uno straccio pulito credo che lo userò ok allora questo è palesemente qualcosa in codice e questo scurità è? mi sento a casa allora qui abbiamo forse con lo straccio possiamo che è stato? no 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 ancora no eh basta eh dov'è il mostro? si mostri? che è sto suono? che schifo sto suono allora le macchie lo sento qua ma non lo vedo dov'è la macchia? questa è una porta? io tutto sto gioco è confuso allora straccio usa non posso applicare che sta succedendo? che cazzo sta succedendo? posso far ritorno dalla realtà della demenza con un salto con un salto tra un universo e l'altro il famoso salto della quaglia brucialo con il solvente ah giusto il solvente bravi finalmente non posso più tornare indietro ok il solvente finalmente ha trovato uno scopo oh tre sono le macchie e tre sono i solventi esatto 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 aspettate che tiktok rompe i coglioni ah ragazzuoli allora fermi scusate un attimo eccoci qua buono a posto? fatto ok continua che è stato? come carico allora questo cos'è? aha dobbiamo capire come orologi e busti siano correlati dobbiamo perché sta parlando direttamente a tutti noi ragazzi è proprio uno sforzo collettivo il nostro tre teste e il tempo ho sbagliato tasto ma facciamo che lo capiamo dopo prima i solventi prima i solventi e le figure allora usa no senti usa ok mi avvicino usa combino con lo straccio perfetto usa ok e uno l'abbiamo tolto ok e questo ci siamo dov'è l'altro? lo sento ma non eccolo qui allora usa ole ce n'è un altro? si qua ragazzi sta andando alla grande finalmente mi sento utile ok a posto? pulito rimuovere le macchie ma a me non me ne frega un ca io voglio che ci sia comunque un premio dopo il mio sforzo allora abbiamo l'orologio e le teste oh oh eh no però eh no però un cretino con un anello in mano sembra che mi sto devo fare una proposta eccolo qui il giocattolo che ho fatto? 2 di 7 ok buono qui c'è un mappamondo credo che si possa andare anche nella realtà di questo quadro saltiamo da un quadro all'altro boh non lo so non mi sembra però non si non sembra si possa fare più di tanto qui penso che grazie all'anello tu possa andare in altri dipinti e trovare la soluzione agli altri enigmi del mondo esterno sì quello che penso che io vabbè oddio l'anello non si entra proprio in nulla cioè per adesso non serve a niente non ho abbastanza che rosene perché cosa dobbiamo capire come orologi e busti siano correlati voi l'avete capito da questa semplice immagine riuscite a trarne le conclusioni per favore datemi una mano devi mettere le teste che guardano in direzione dell'orologio ok fin là ci avevo pensato anch'io effettivamente proviamoci questa è data questa è soffeso ok e questa sta già guardando l'orologio hanno tutte le teste a sto punto non solo tre questo disegno dice il falso allora quindi adesso siamo nello schizzo del nonno ok a posto che io abbia vinto e mo un orologio antico ma privo di lancette forse dovrei trovare più di quindi adesso scopri cosa si nasconde nell'armadio trova le lancette dell'orologio no ragazzi io non ce la faccio ve lo giuro non ci riesco metti le teste a ore tre ma in che senso metti le teste a ore tre cioè tutte girate verso destra ma perché sta roba la testa sul divano manca una testa ma è già spostata verso l'orologio però aspetta magari si intende così deve guardare l'orologio effettivamente questa sta guardando l'orologio si quella sta guardando l'orologio sta disgraziata no questo sta guardando l'orologio boh trova le lancette nell'appartamento ah è vero c'è l'orologio aspetta c'era un orologio nell'appartamento allora torniamo indietro nell'appartamento prendiamo le lancette nell'appartamento entriamo nello schizzo del nonno e utilizziamo le lancette per girare per girare l'ora per cambiare l'ora l'orologio che si fa controllare guardare sbirciare da tre teste mozzate tipo guarda se io prendo queste lancette qui non posso comunque l'orologio rimane senza lancette non non è vero perché devi dire bugie dove possiamo trovare ragazzi guardate se è sbadiglio ma ormai arriva una certa che collasso vai con l'anello in cucina ok ragazzi vi ringrazio che mi date più o meno delle soluzioni perché effettivamente sono sincero sto avendo difficoltà non mi avete dato la soluzione mi avete dato difficoltà nel frigo ancora effettivamente sembra funzionare cibo in scatola buon vecchio stufato mio padre ha sempre detto che era fatto con vera carne di manzo miracoli basta per favore ah un altro quadro trovato sì l'anello serve per entrare nei quadri è vero pensavo dovesse entrare nella carne di manzo per un attimo che bello guarda che figo sembra che ho la scabbia e che il mio corpo purulento si stia si stia schifando di sé e quindi stia morendo di una morte orribile però devo dire che effettivamente guarda ste mele ti viene voglia di eh no guarda questo panettone che sta roba tocca il sole io sono scemo sì papà è stato qui forse ha lasciato degli indizi come nella storia delle briciole di pane dobbiamo esaminare l'oggetto con l'anello eela che c... ahu astuta non cazzo aveva già pagato perché pensate sempre passato l'edificio sono entrato nel ricordo salviamo ok no 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 basta enigmi basta ma non ce la faccio più che poi tra l'altro i videogiochi stimolano l'intelligenza ma io sono sono trent'anni che i videogiochi sono sempre lo stesso rincoglionito ma possibile? mai cioè dovrei essere ormai eh capisci veloce dici cazzo ci arrivo subito l'ho fatto mille volte no rosso e giallo uguale lo sballo verde e rosso uguale cacca e poi il rosso e blu uguale viola perché? prendi la bambolina è vero sì l'avevo vista con la coda dell'occhio ma non ci ho fatto caso dove è finita? utensili eccola qui è fatta sensazionale visto in terra vedi se trovi la benza per la lanterna eh sì servirebbe effettivamente perché lì è troppo buio ma se ci andassi non posso questa porta non porta ok vediamo cosa c'è di qua hello posto di merda artefatto un antico manufatto sembra che sia solo per metà e da qualche parte qui vernice ottimo una nota una nota molto vecchia leggiamo sto finendo la vernice rossa domani andrò a pescare la conchiglia la cocciniglia scusatemi è la stagione posso prendere un paio di secchi devo anche riempire le scorte di ocra voglio fare una natura morta di arance e limoni che lavoro di merda è noioso solo pensarci ok questo giallo dammi tutto il dipinto è sottoverniciato la cavallina una spottacchiera fermo a posto a posto però l'anello qua si era acceso di un rosso vermilio intenso e e poi si è spento ma il nostro nonno era Leonardo da Vinci o padre quel cazzo ok non ho ben capito la storia sinceramente allora con calma ne usciamo dipingi il sole di giallo giusto possiamo provarci ma si perché no perché non accendere una candela sotto un telo di vernice infiammabile utensili inventario pieno ah perché si riempie anche l'inventario allora il dipinto è sovraeccitato adesso ci penso io usa ora ora devo combinare i colori su utensili usa ma posso fare combina con utensili usa con combina questo cos'è utensili quanti cazzo di utensili ho sono vasetti ma mi serve la vernice giusta ma io non ho tempo di da perdere incazzate dove sono finito il dipinto è sottoverniciato sottoverniciato privo di pittura ah questa qua è la vernice una fiara grande di vernice blu allora aspetta un attimo usa ok una ce lo siamo portati a casa ci serve il verde sicuramente e l'arancione ok gli altri colori per adesso li rilasciamo sperando che non si rompano li lasciamo qua ok è pieno di vasettini che possono tornarsi utili però per adesso stica eeeh allora il sole è giallo perfetto il il sto a fare invece questo fiorellino che colore era forse un blu ma io che cazzo ne so viola color viola che è sta che è sta che cosa c'è bisogno oh che cosa sono sti suoni calmi buoni no no ma si è spostato qualcosa vi sposto io eh vabbè eccolo qua viola per fare il viola serve il blu e il rosso ottimo allora il blu combina col rosso viola quindi andiamo di là e e e dipingiamo sto a fare di viola vediamo un po' se funziona usa perfetto e mo ce l'abbiamo fatta? ha funzionato? mancava il sole? no il sole l'ho colorato il sole è arancione Dino non giallo ah ritorniamo dentro l'albero arancione come è l'albero arancione? figa odio l'arte allora l'albero arancione il sole qui mi dice che vabbè è giallo quello che è dove è il sole? non mi ricordo più dove era lo schizzo del sole qua effettivamente ma non è lo stesso colore ma io ci sto capendo un cazzo ragazzi mi sembra lo stesso identico colore nuovo sole non ti lascia più manca il verde puoi cambiare gioco suono dal tonico giusto arancione no ci abbiamo su uno di questi vasettini e prendi e prendi l'arancione perfetto no è giallo ragazzi è giallo giù di lì dai minchia mezz'ora per passare sotto le travi mezz'ora è lo stesso giallo eh no aspettate effettivamente ho capito bene il colore vediamo un po' con questo che cazzo di colore è questo ragazzi 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 l'albero è marrone bellissimo colore l'albero è marrone giustamente eh a trovarlo l'albero marrone dove dovrei dipingerlo l'albero io non vedo l'albero è arancione il sole il sole non è arancione non è giallo che è stato eccolo qui l'albero l'albero è marrone per fare il marrone mi serve il verde e il rosso ci penso io però mi serve il rosso quindi prendiamo questo questo cos'è vernice gialla no non mi metti giù mi serve un utensile questo io sento che cazzo ci fa sto ferro di cavallo qua non c'era prima vabbè ragazzi su non eh concentriamoci sui nostri affari allora che colori servivano il verde e il combina il giallo e il rosso per fare il sole arancione sì va bene ma concentriamoci sull'albero per il marrone era rosso ok verde e rosso quindi verde si già sì il rosso e questo quindi questo è rosso non so in quell'universo perfetto combiniamo i due combina con questo e abbiamo il color marrone buono molto buono devo andare di qua per dipingere l'albero no dov'è che stava l'albero di là ok adesso facciamo tutto ragazzi facciamo tutto ok zitto zitto perfetto e adesso il colpo forte è ehm cioè se non ci fossero questi suoni io non mi accorgerei neanche del mostro vabbè è lì che ci sbircia il colpo forte è questo il rosso e il giallo che crea lo sballo quindi il rosso e il giallo dio santo ma devo trovare scusi eh signor mostro non mi ferisca aah che sto facendo io lo sfido io rido in faccia alla morte dammi dammi sta roba rosso usa ok allora il gioco è bello un po' lentino un po' lentino però è bello ci sta ci sta combina ok vediamo il colore del sole ho colorato il sole di rosso lo so adesso adesso lo sistema eh lo so ragazzi è un po' un po' tanto l'entino effettivamente però è a me piace mi sta piacendo più che altro piace la fantasia ok questo ce l'abbiamo fatta quindi adesso che succede adesso esce sgarbi incazzato nudo ovviamente sei no c'è ma per ogni quadro una combinazione no ragazzi non credo di far non credo non non c'è la faccia è un po' lentino sì sì vabbè ricordiamoci il numero sei penso che sia l'unico che ascolta seriamente quello che dice la chat devo perché non sopravvivo allora sei abbiamo il sei abbiamo anche un problema di postura guarda come attenzione nostalgica la nostra ombra no ma vieni qua per favore vieni qua vieni qua ti 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 educo a colpi di cefoni con l'anello proprio che succede è la mia ombra porca putta ho avuto paura della mia ombra alla fine è successo eia ok ok però ragazzi sono le 23 allora facciamo così salvo la partita e lo continuiamo la prossima volta dai anche se anche se martedì facciamo un altro horror però sti cazzi lo continuiamo la prossima volta ragazzi perché adesso dobbiamo parlare di Deadpool quindi recensione sul film Deadpool vi dico tutti i miei pareri personalissimi sono andato a vederlo sabato con la vale che è questo cazzo di violino quindi adesso ci concentriamo su quello voi di tiktok se volete venite su twitch che appunto parliamo di Deadpool un pochino tutte ste robe qua però volevo farevi prima vedere il trailer del giochino che portiamo martedì che dovrebbe essere se non sbaglio se ricordo a rigor di logica scusate fermi non fate cagate adesso ci arriviamo andrea dov'è la programmazione settimanale domani intanto cosa abbiamo domani abbiamo Toilet Simulator ragazzi ah guardate il maestro guardate il maestro con Bonnie guardate che roba Bonnie che palesemente ha la faccia di una che è stata rapita guardate che roba recensione con spoiler faccio la allora la prima parte senza spoiler la seconda parte con gli spoiler va bene così che almeno siamo a posto però fermi un attimo che volevo farvi vedere il gioco e sono qua su instagram perché non mi ricordo la programmazione e non mi ricordo domani che cazzo c'è da portare dov'è la home qua domani c'è potrei leggere la chat in questo momento che voi lo sapete però sì abbiamo Toilet Simulator siateci domani c'è Cesso Simulator e mercoledì un nuovo horror che si chiama 10.59 che non è un gioco è un incubo vi faccio vedere il trailer mi ha fatto una programmazione bellissima stasettimana sono sono fiero di noi lista desideri eccolo qua dove cazzo sta 10.53 59 quel cazzo che è guardate 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 sì eh 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 non vado avanti ragazzi se no ci spoileriamo veramente tutto ci spoileriamo veramente tutto come avete visto in questo gioco horror c'è proprio l'abc dei giochi horror i fusibili le porte che non portano le torce e vabbè i bambini ormai i classici bambini e la gente che cammina sui tetti quindi direi che abbiamo tutto perciò ragazzi domani siateci detto ciò voi di tiktok ciao è stato un piacere se volete venite qua su twitch e niente ci vediamo domani fatemi terminare qui questa live è terminale eccoci eccoci oh ho concluso vostro onore perfetto